come vorrei io? quando sei scarsissima faccio un filmino della tua scarsità guarda, scarsissima non riesci neanche a farne sbondata bene anche la macchina è distrutta hai nemmeno una macchina la partenza non dici il tesoro che tutti gli occhi la pappagallo che non si vede non c'è gli occhi come il fa c'è la famiglia di sbondare tutto quello che c'è la mamma eh guarda questo due amici fai una ricerca sono due amici se tu fai la funzione l'idea non è qua questo è quello che c'è questo è quello che c'è fai un'analisi che ora ti sei svegliato? alle 5 alle 5 eh? questa è bianca è l'omento ma le 5 si esce da 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 i 8 le 5 si esce da le 6 si esce da sottotitoli